La matassa è finalmente sbrogliata, i lavori per la realizzazione della scuola di via Morelli a Barletta possono ripartire. L'accordo, siglato questa mattina nella sala giunta della città metropolitana tra il sindaco di Bari Antonio De Caro, una rappresentanza della provincia Abate e il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, ha sbloccato una situazione ingarbugliata dalla burocrazia e risolta ora grazie ad una forte sinergia istituzionale. È una situazione molto complicata, complicata da un atteggiamento di burocrazia ottusa ma anche di politica ottusa perché questo problema è stato risolto grazie al sindaco De Caro, grazie al sottoscritto, lo voglio riconoscere, è bene che si sappia, non è falsa modestia la mia e grazie anche alla presidenza della provincia attuale perché tutti quanti gli altri hanno fatto di tutto per ritardare la ripresa dei lavori. Nel 2011 con il trasferimento del patrimonio della provincia di Bari alla BAT venne trasferito il diritto di superficie del terreno sul quale sarebbe sorta la scuola, privando dello stesso diritto di superficie la banca e la ditta costruttrice, costretta così a sospendere i lavori pur avendo più volte richiesto l'area titica della trascrizione. L'accordo siglato a Bari scioglie questo nodo. La base dell'accordo è che la BAT restituisce la superficie alla banca che era il motivo e che era la garanzia per il proseguimento dei lavori, quindi oggi l'impresa ritorna ad essere proprietaria, l'impresa e la banca ritorna ad essere proprietaria del diritto di superficie perché quella è la garanzia per la quale poi si possa costruire la scuola. Alla ripartenza dei lavori per la realizzazione di un istituto che potrà accogliere circa mille alunni manca ora davvero poco. Adesso l'area metropolitana, la provincia BAT ha 30 giorni per ritirare tutto il contenzioso, una volta ritirato il contenzioso si va dal notaio a restituire il diritto di superficie alla banca e alla materrese e quindi potranno riprendere i lavori in maniera spedita, anche perché quella scuola è per il 70% fatta, occorre soltanto finirla.